Due settimane di assenza Io dico ma ti pare normale questa cosa Adesso io torno, non so più convicciare Niente, è buono E siamo ancora in arena, divisione 6 Come è possibile? Non arriveremo mai a 6.000 punti in questa stagione ragazzi Mi raccomando Sono mancato lo so ma continuate a supportarmi Nel negozio di Fortnite In basso a destra Ogni 14 giorni dovete reinserire il codice creatore Stephanie Fondamentale per supportarmi Sputnik, togliete un attimo Mi raccomando poi taggatemi anche su Instagram Vedete tantissimi pollicioni in su perché presto ci saranno Molti aggiornamenti, commentate Iscrivetevi alla campanellina e io vi auguro Una buona visione Bene ragazzi Questo è Stephanie e bentornati In questo nuovissimo video della serie di Fortnite È passato un sacco di tempo All'ultima volta che ho giocato ci sono già un botto Di cose da vedere Ad esempio nel prossimo aggiornamento Finalmente ci saranno gli slot degli oggetti predefiniti Così potremo decidere dove finisce il fucile assalto Il fucile a pompa La mitraglietta Le cure Tutto quanto in automatico In questi giorni tra l'altro nel negozio di Fortnite Dove anche io devo reinserire il codice creatore Stephanie Che me l'hanno tolto È uscito il bundle di Lebron James Ma di che parliamo? Con la maglietta della Toon Squad Ma è fantastico Posso lasciarlo qui? Assolutamente no Acquistiamo tutto il pacchetto Lo equipaggiamo Però questo qui con la camiciotta E a questo punto non possiamo lasciarci sfuggire Questa pickaxe della morte Con tanto di deltaplano con le altre Compra tutto Tutto immediatamente Come vi ho detto siamo ancora in divisione 6 E dobbiamo raggiungere piano piano Questa divisione campione Con 6000 punti Un po' complicato Visto che sono leggermente arrugginito Ma avete visto sono tornati i video di Minecraft I video di Clash Royale Piano piano recupereremo con il nostro ritmo Non possiamo aspettarci grandi prestazioni Dalle partite di oggi Ma vi prometto che mi impegnerò al massimo Primo atterraggio possiamo farlo al Parco Pacifico L'astronave ormai ha quasi fatto il giro completo Chissà cosa succederà E guarda come si muove le giadro le bronco Questa skin Va fantastico Ehi la Qua c'è un fucile a pompa Lo voglio io grazie Mi dispiace molto Non sono morto per miracolo Che dio che sono Abbiamo devastato sto tizio Che ci stava continuando a pushare Sin da là sopra E siamo rimasti con due di vita Ma siamo ancora in vita E questo è l'importante Non so se ci avevate fatto caso Ma adesso Quando uccidete qualcuno Le armi che raccogliete Sono con le munizioni al massimo Anche se lui le ha già sparate tutte Giochiamo con calma Recuperiamo questa cassa Magari ci sono degli scudi Ma grande Ma che fortuna Ecco vedete E' bello avere la cosa dell'inventario Nel prossimo aggiornamento Perché io sbaglio sempre Qua c'erano degli scudini Che non ho visto in tempo Accidenti a me Sta arrivando qualcuno Molto arrabbiato Oioioioi Bravo Ne arriva un altro ancora Eh no Questo non ci voleva proprio 16 Ma com'è possibile Che io sono arrivato Dalle pietre In mezzo al nulla C'è stata una conversione Di tutta parco pacifico Verso di me Oggi non ci arrabbiamo Che dobbiamo ancora Riprendere la mano Quindi è tutto quanto regolare Ho visto che hanno inserito Una specie di paracadute mucca Qualcosa del genere Che puoi utilizzare Quando stai cadendo nel vuoto Per trasformarti In una palla gonfiabile A forma di mucca Vabbè Se la troviamo La usiamo Ovviamente E' questo quello che volevo io Per caricarmi E gasarmi Ci buttiamo alle brughiere Come ai vecchi tempi Guys Divertimento qua è assicurato Scusate se nei combattimenti Devo concentrarmi Ma capirete che Non è facile Purtroppo 25 Non è male Non è più niente Preso Curiamo un attimo Ci facciamo lo scudo Calmi così E' pieno di gente E' pieno di z Morto Sì Ma quello è craccato Buono così Nodo Cosa? Eh vabbè Com- No 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 Mi ero qui Mi ero chiuso Hai lebron Vi fargli vedere Chi comanda Ok che questo è solamente Il riscaldamento Però Vogliamo fare almeno Un bel po' di uccisione Serve subito Scudo Eccolo che arriva Andiamo a recuperare I barili qua dentro Al distributore E poi pusciamo Quel tizio Che è là dentro Distrutto I'm sorry Baby Non ci posso credere Tutto ok Non giochi solo da 14 giorni E' normale che vada qualcosa storto La situazione è drammatica Quando arrivi al ragolanguido E non ci sono Fucili a pompa Per te Come se me lo meritassi C'è un tipo in casa Noi dobbiamo accontentarci Dello scudo E una cappa viola però Che fa male C'è un lama laggiù Eh sei morto Mi dispiace molto Ma sto venendo a prenderti Sì Adios Grande col fucile A pompa Il numero uno Lama Dovresti fermarti però Venga qua Il tipo dietro Mi spara con la magnum E il lama Mi droppa le pozzine A 50 Va bene Questo dove va Straccatissimo In volo Si va a prendere Mi dispiace Uuuuh 39 headshot Fa male Te ne vai a casa Anche tu Devastato tutti quanti Stavolta Ma dov'è Non c'è più Sì sì ciao Cosa Cosa E' finita Lo riuscirò a sopravvivere Vi prego Preso Questo fa male Sì sì Godo tantissimo Andiamo Sopravvissuti a questa missione Quasi impossibile Oh mio dio Dove dobbiamo andare Siamo riusciti a mantenere Decisamente la calma C'è da dirlo Nonostante i giorni Senza giocare L'abbiamo gestita bene Probabilmente ce l'avrei fatta Ma non voglio rischiare Perché abbiamo fatto Un bel salvataggio Ah di nuovo Quei cubi del male Ma non col cavolo Che ci entro Ma tutta la città È così Oh mio dio Ma perché Guardate che roba Per un po' Però dovremo andarci All'atterraggio In un posto del genere Cerchiamo di andare Full legno Che gli altri materiali Comunque sono messi Piuttosto bene 15 persone Dividono Stepni Dalla vittoria Dopo tanto tempo Che non gioco Sarebbe una bella soddisfazione Teniamo a mente Che non è la stagione Degli archi Ma potremmo morire Cecchinati Da un momento all'altro E punto Eccola Che cosa sto vedendo Cosa? È finita vero? Ho messo la scala Oddio Come ha fatto A farmi fuori Ho costruito Mi sento male No veramente Rovinata così La partita Beh guardiamo Il lato positivo Delle cose 75 punti E andiamo In divisione 7 Dov'è finito Il buon proposito Oggi non ci arrabbiamo Non lo so neanche io È solo che vorrei vincere Vorrei una partita decente Gamba in spalla Si vola All'ago languido Via Troppo basso Per la cassa Mannaggia la miseria Guarda che magari Brucia il tipo Là sopra Polverizzato Dove fai? Non lo puoi fare? A casa No mi No 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 Allora 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 Si può fare Serve solo concentrazione Tu lo sai Stefano C'è uno pazzotto però eh Lo sapevo Lo sapevo che eri qua C'è pure un lama laggiù in fondo Beh stavolta mi sa che non me lo faccio scappare Scappare Andiamo a recuperarlo in qualche modo Non sparando a lama vogliono ucciderlo Porca trottola Lo voglio io Guarda guarda che lo vuole uccidere Casa Ormai da nessuna parte Male male C'è un altro Ah no ciccio mio Tu lo sogni Ah no Come? No no non ci posso rivedere È una trollata pazzesca 5 punti Ma vi rendete conto? Ultimo atterraggio Poi abbiamo bisogno di un bel rodaggio Perché se no facciamo un po' schifo C'è un tipo davanti a noi Che andrà a prendersi la mitraglietta Ci dispiace molto Distrutt No No Finito Abbiamo raggiunto una lega contendenti Bella schifezza Ultima partita Quelli che incontro io ho tutti i mostri del male C'è poco da fare Cari amici questo video di Fortnite di oggi termina qua È meglio così Fidatemi perché ci tengo alla mia tastiera e al mio mouse Non vorrei lanciarli inavvertitamente contro lo schermo Devo riprenderci la mano Sì purtroppo sono tutti gasatissimi Non arriveremo mai a 6.000 punti Mi raccomando se vi è piaciuto Tanti pollicioni in su Commentate Iscrivetevi Alla campanellina Se vi è piaciuto il prossimo video Qua è sempre tutto Buone Alla campanellina Alla campanellina Grazie.